E al comune di Agrigento, nell'ufficio del sindaco, il sindaco Calogero Firetto ha presentato il progetto di restituzione alla pubblica fruizione del campo polivalente di Villa del Sole. L'inaugurazione domenica prossima, 30 ottobre, alle ore 18. Al microfono di Irene Milisenda. Domenica verrà inaugurata quella che era la Villa del Sole, ormai abbandonata, adesso ristrutturata e verrà restituita al pubblico. Domenica inauguriamo anche questo spazio sportivo. La città si riappropria di uno spazio a cui è particolarmente legata, proprio la Villa del Sole, che è stata scarsamente frequentata nell'ultimo decennio. E con un campo imbattuto lavico, che obiettivamente non è più al passo con il nostro tempo. E rientra in quella più generale operazione di restituzione di spazi dedicati allo sport, che per tanto tempo sono rimasti inutilizzati. Il comune non era nelle condizioni di poter assicurare la gestione, ordinata dai singoli impianti, e rimanevano sostanzialmente chiusi. Con la terzializzazione abbiamo raggiunto un doppio obiettivo, cioè l'incrocio tra il pubblico e privato ha consentito di poter fare investimenti su questi impianti, adeguarli in maniera propria al tempo che viviamo e restituire uno spazio alla città. Quindi si realizza un obiettivo, secondo noi, virtuoso, che consente di poter dire che ad Agrigento, Un anno fa il diritto allo sport era pressoché negato, perché gli impianti non erano funzionanti, se facciamo eccezione per l'Sneto, per lo stadio Sneto dedicato alla nostra squadra di calcio, per il resto non erano assolutamente utilizzati e si andava nei comuni vicini. Oggi, con Villa Seta I, con lo spazio che inauguriamo domenica, Villa del Sole, ci riappropriamo di quest'altra area della città, ma nel prossimo futuro l'apertura della piscina comunale, sempre secondo la stessa formula, l'apertura del palazzetto Nicosia, per il quale sono già iniziati i lavori, anche qui con la stessa formula, e un'operazione che andrà avanti anche per gli impianti sportivi di Villaggio Mosè e di Villaggio Peruzzo. Domenica alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione del campetto polivalente Villa del Sole, ci sarà il taglio del nostro, ci sarà la benedizione, è presente l'amministrazione comunale, ci sarà tutta, diciamo, poi alla fine ci sarà anche un rinfresco da parte offerto dagli sponsor. È un mando di nuova generazione, di colore azzurro, come ho detto già negli altri emittenti, quindi è una cosa meravigliosa per quanto riguarda noi agrigendini, di avere questo spettacolo, perché vederlo da fuori e vederlo con l'innovazione è qualcosa di eccezionale, basta ricordare come era prima, e quindi domenica faremo questa inaugurazione alle ore 18, quindi è aperta a tutti e invito alle persone ad essere presenti. Grazie.